Ciao a tutti ragazzi, questo è il mio primo video ASMR, io sono Wendy e spero che i miei tre triggas, vi piacciono, il primo è un burro cacao passiamo al secondo trick è unicinizzante, messo in un barattolo di una strana bocetta e ascoltiamo il suono è davvero profumatissimo purtroppo non fa rumore perché non è molto liquido ma è un un po' densa quindi non si muove nella bocetta velocemente il mio ultimo trick è molto rilassante è una spazzola e si può fare un magnifico tic-tac è una spazzola 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 è una spazzola